A distanza di otto anni, il Santa Croce è stato promosso in eccellenza grazie alla vittoria sul Terme Vigliatore. Un passaggio meritato per i biancazzurri dopo un campionato intenso e combattuto partita dopo partita. Nel match contro Terme Vigliatore, gli uomini di mister Gaetano Lucenti si sono imposti grazie alla tecnica e alla lucidità dei giocatori, realizzando due reti firmati di Rossi e San Martino. Risultato finale 2-1 per il Santa Croce. Importante vittoria per il Marina di Ragusa, che vincendo contro il Real Rometta ha conquistato la coppita della ripromozione. Per il rosso-blu della contrada marinare, il secondo successo è di stagione dopo il passaggio in eccellenza conquistato il mese scorso. Il match è stato vinto con facilità dai ragazzi di Salvatore Utro, dimostrando ancora una volta di essere una squadra compatta e vincente. I rosso-blu sono riusciti ad assegnare ben tre reti, grazie ad Ascia, Rene e D'Agosta. Il risultato del match è stato di 3-0 per il Marina di Ragusa. Altra vittoria per il Pozzallo, che ha battuto l'Atletico Scicli, conquistando la promozione. Dopo il successo della partita precedente sul campo del Pro Ragusa, la squadra di Tasca ha vinto anche allo scapellato, in un match combattuto. Risultato finale 2-1 per il Pozzallo. Grazie. 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 Grazie a tutti.